Il viaggio di ascensione delle fiamme gemelle, di Aurora Ray, 27 agosto 2020, traduzione marina 144.000 fiamme gemelle illuminate si sono incarnate sul pianeta Terra per aiutare l'umanità durante l'ascensione globale. Sono chiamate fiamme gemelle illuminate perché questi esseri possono mantenere una frequenza di luce superiore a qualsiasi altro essere all'interno di un corpo umano denso. Fasci di luce gamma fotonica stanno arrivando sulla Terra, penetrando nelle cellule di ogni organismo vivente. Gli esseri che sono in grado di integrare questa luce per primi, sono quelli illuminati, rendendo più facile per gli altri accedere a questa energia luminosa 144.000 il numero che è stato consentito all'alleanza, assicurando che il libero arbitrio dell'umanità non sarebbe stato violato. Ci sono altri esseri di luce e altre fiamme gemelle incarnate ormai. I 144.000 furono solo una delle tante ondate di esseri, ad altissima evoluzione, che sono stati mandati sulla Terra per svolgere uno dei numerosi compiti speciali. Negli ultimi anni molte fiamme gemelle si sono riunite. È un raro sentimento di amore indescrivibile, con una profondità senza precedenti, che supera ogni cosa quando si incontra la fiamma gemella. Sembra come la realizzazione di un desiderio intrinseco di diventare tutt'uno con l'altra persona anche se non sapevate di avere questo tipo di desiderio prima di incontrare la vostra fiamma gemella. Con il completamento dell'ascensione della Terra alla quinta dimensione, una cintura fotonica sarà allungata intorno al nostro pianeta. Questa cintura proteggerà la realtà del tempo e dello spazio del nostro pianeta dall'essere nuovamente saccheggiata da qualsiasi altra specie. Anche gli altri pianeti hanno simili cinture di luce a protezione. Ecco perché quando gli esseri umani atterrano su un pianeta, non trovano nulla lì. Bisogna avere le coordinate corrette per entrare attraverso il portale spazio temporale. Se volete visitare e vedere un'altra civiltà extraterrestre, questa cintura fotonica porterà migliaia di anni di pace a Gaia, durante i quali le specie terrestri potranno vivere e prosperare nel Paradiso 5 e di sulla Terra. Le fiamme gemelle hanno accettato di venire in questo regno durante questo periodo di drastico cambiamento e attraversare l'immenso processo di dolore, dramma e soprattutto di amnesia per incontrarsi e riunirsi con la loro controparte divina. È l'amore che questi esseri hanno, l'uno per l'altro, che aiuta a ricostruire la cintura fotonica della Terra. Questo pianeta sta imparando che il modo inconscio in cui gli esseri umani hanno vissuto la vita non gli ha serviti bene. L'umanità si sta risvegliando alla verità che i loro modi non sono più sostenibili e i sistemi che hanno costruito, in cui credono, e che proteggono, stanno andando in frantumi davanti ai loro occhi. Mentre il pianeta sta attraversando un'immensa fase di risveglio di massa, i popoli della Terra capiscono il ruolo che la sessualità, e soprattutto la sua distorsione, hanno svolto nel loro gioco di schiavitù, man mano che sempre più persone apprendono il satanismo, in cui una forma di sessualità limitata e frammentata ha svolto un ruolo importante, iniziano a mettere in discussione la propria sessualità e, a poco a poco, il modo in cui la sessualità era considerata e praticata sta cambiando. La sessualità è l'atto più sacro e potente della spiritualità, e ciò che vi connette con il Divino, attiva la vostra energia Kundalini, che scorre attraverso il vostro sistema di dodici chakra e, alla fine, risveglia la vostra coscienza cristica. Ecco cosa significa ascensione. Quando il sesso sacro viene eseguito da due fiamme gemelle, pienamente centrate sul cuore e consapevoli, due antichi amanti che si adorano l'un l'altro come dei, potenti raggi di energie vengono emessi dalla coppia e riparano la cintura fotonica, e ancora di più, l'amore che creano nel loro rapporto rende questa frequenza d'amore accessibile ad altri esseri. Aumenta il livello vibratorio della Terra e di tutta la sua vita senziente. Spesso le fiamme gemelle sono state infiltrate in vari modi degliideroscuri, che non desiderano altro che impedire l'ascensione della razza umana. Ci potrebbero essere traumi emotivi, dipendenza, danni alle relazioni, problemi finanziari, la distanza fisica è quasi scontata, e molti altri problemi che possono e devono essere superati per realizzare il piano divino. È lo scopo della loro vita, la missione della loro anima, il loro dharma. Se avete sempre desiderato qualcuno di cui potervi fidare e amare così tanto, in cui potreste perdervi, avete una fiamma gemella, l'incontro delle fiamme gemelle è imminente, la loro unione è il piano divino. Vi amo, siamo una famiglia di luce. A.O. Aurora rei ambasciatrice della Federazione Galattica. Traduzione Marina A.O. Aurora